Allora, in quel tempo Gesù disse sui disceni Sotto la stessa luce Non pregnate che io sia venuto ad affolire la legge Non sono venuto ad affolire ma amare via l'opera E quello che dice lui, è la legge che dice Uccidere, 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 uccidere Lui dice, diciamo, uccidere E anche questo, guardate male, inizio, andate male, caro Un dato minimo nel Regno dei Ceneri Vuol dire che non è tra l'altro Ma io mi dico, comunque senti l'altro, per la legge E poi c'è più 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 l'altro Sotto nella nostra terra Nel lavoro di ogni uomo Pane della nostra vita Cibo della quotidianità E lo prendevi un giorno Lo spezzavi per i tuoi Oggi vieni questo pane Cibo per il tuo Un tempo ordinario Oggi Gesù ci dice che siamo sale della terra e luce del mondo Prendiamo coscienza della nostra responsabilità di cristiani Attraverso una testimonianza visibile e credibile Noi diventeremo segni di Dio nel mondo Luce che illumina gli altri uomini La chiesa celebra oggi la trentanomesima giornata nazionale per la vita Canto d'ingresso E poi c'è più l'altro, per la legge E poi c'è più l'altro E poi c'è più l'altro E poi c'è più l'altro levare Seisten Se esplaudete E poi c'è più l'altro Andate Per la sua vita Una simona E poi c'è più l'interno E poi c'è più l'altro E poi c'è più l'amata Soprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. Vivere la vita è la ventura, non so, bella, per l'amore, è quello che io vuole da te. Vivere la vita è generale, ogni momento è il paradiso, è quello che io vuole da te. Vivere perché mi torna al mondo l'unità, perché mi lascerai i fratelli tuoi. Soprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. Soprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. Un'altra scia di luce lascerai. Soprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se c'è altra gente fuori, venite anche avanti e così potete ascoltare con calma tutti la stata messa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti i cieli e pace e terra ai nomini di buona volontà. Perché tu sono il Santo, tu sono il Signore, tu sono l'Albissimo Cristo Gesù. Con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. E il Dio del Dato dei Cieli e pace e terra ai nomini di buona volontà. Con lo Spirito Santo e la gloria di Dio nel Dato dei Cieli e pace e terra ai nomini di buona volontà. Preghiamo. O Dio che nella follia della croce manifesti quanto è distante la tua sapienza dalla logica del mondo. Donaci il vero Spirito del Vangelo perché ardenti nella fede e instancabili nella carità diveniamo luce e sale della terra per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che Dio vive e regna con te e l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. che c'è qualche posto qua sopra a sedere, che la predica sarà a due ore. Quindi perdete il posto che vi comprendete. Lei com'è? La rifugia odierna richiama l'attenzione sulla vocazione comunitaria della Chiesa, che è segno di alleanza per tutta l'umanità. Il discorso della montagna non è destinato a individui tra loro isolati, ma a persone che sono disponibili a farsi comunità per essere sale della terra e luce del mondo. Dal libro del profeta Isaia Così dice il Signore Non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi venti. Allora la tua luce sorgerà come la nuova, la tua ferita si rimargerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà Eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare l'empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se stanzierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebre sarà come il merigio. Parola dell'afflitto. Parola dell'afflitto. Premià un'afflitto di cuore. Parola dell'afflitto. Grazie a tutti. 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 Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue lei avrà la luce della vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alleluia. Grazie a tutti. Carissimi fratelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giorno del Signore. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Amen. perché a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti.